Pace e bene a tutti, buongiorno e bentornati. Oggi 30 marzo ricordiamo San Leonardo Murialdo. Ascoltiamo la sua storia. Leonardo Murialdo nasce a Torino il 26 ottobre del 1828 da una famiglia borghese con nove figli. A cinque anni gli morì il padre e a causa di questa sofferenza sviluppò, in età matura, una forte sensibilità nei confronti dei suoi ragazzi, dei quali divenne il padre spirituale. Studiò dai padri scolopi di Savona e alla Regia Università di Torino, laureandosi in teologia. Un anno prima della laurea perse la madre e il 20 settembre del 1851 venne ordinato sacerdote nella chiesa della Visitazione. Don Murialdo iniziò il suo apostolato nel povero quartiere di Vanchiglia, presso l'oratorio dell'angelo custode. Le miserie alle quali doveva provvedere erano molte e spesso capitava che i genitori morenti affidassero a lui i propri figli. Nei primi 14 anni del suo ministero si dedicò ai giovani torinesi nell'oratorio di San Luigi a Porta Nuova. Poi gli venne proposta la direzione del collegio Artigianelli, che istruiva e preparava i giovani ad un mestiere. Sarà l'impegno che lo occuperà per 34 anni. Nel 1867 fondò la confraternita laicale di San Giuseppe per aiutare i ragazzi poveri e abbandonati. Il mondo operaio dell'epoca costituiva un'altra emergenza e Don Murialdo si impegnò per i disoccupati, per le donne e i ragazzi che lavoravano in fabbrica, organizzando nel 1871 l'Unione degli Operai Cattolici, di cui fu poi assistente ecclesiastico. Fu anche il fondatore dell'Associazione della Buona Stampa e tra gli ideatori del giornale La Voce dell'Operaio, che oggi è diventato il settimanale diocesano La Voce del Popolo. Il 19 marzo del 1873 fondò la Pia Società Torinese di San Giuseppe. Viaggiò spesso nel sud Italia per conoscere le realtà assistenziali delle altre città. A causa di una polmonite morì a Torino il 30 marzo del 1900. Venne beatificato da Paolo VI nel 1963 e canonizzato nel 1970. Dopo la sua morte nacquero i Giuseppini e le suore Murialdine, che tutt'oggi vivono il suo carisma in varie parti d'Italia e del mondo. La storia di San Leonardo è bellissima, una vita dedicata ai giovani, ai giovani più poveri, ai quali lui provvedeva in tante maniere, ma anche, e sottolineo questo, a trovargli un lavoro, quindi il pane e quello che dà il lavoro, ossia la dignità. Apriamo i nostri occhi su questa realtà, su quello che ci circonda, e vediamo come possiamo essere anche noi utili ai più giovani e più poveri a trovare questa strada, ecco, quella dell'occupazione, facendogli gustare questo, il fatto di essere parte della società e il lavoro nobilita l'uomo, diciamo, dice la saggezza popolare. Che peccato vedere i giovani che non riescono a sognare in questa direzione e che si spengono piano piano, forse perché pensano, hanno imparato che sarà difficile realizzare il loro sogno. No, alimentiamo i sogni dei giovani e prostriamoci veramente, facciamo tutto, tutto, tutto il possibile affinché loro possano sognare e possano realizzare i loro sogni, perché i loro sogni realizzati, ecco, come dice Papa Francesco, che i giovani sognano, però, e gli anziani, quelli che sono un po' più maturi, sono coloro che poi possono mettere anche le gambe a questi sogni. Ecco, che si realizzi questa sinergia e che noi possiamo essere le gambe che realizzano i sogni dei giovani per la loro dignità e per la loro serenità. San Leonardo prega per noi.